Cristo ha acquistato la nostra libertà riscattandoci dalla maledizione, condanna della legge e della sua condanna, diventando lui stesso maledizione per noi, perché sta scritto nelle scritture, maledetto chiunque è appeso a un albero e crocifisso, Deuteronomio 21 verso 23, affinché mediante l'accoglienza di Cristo Gesù la benedizione promessa ad Abramo scendesse sui gentili affinché noi tutti, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito Santo. Per parlare in termini di relazioni umane, fratelli, se anche un uomo fa un testamento, un patto puramente umano, nessuno lo mette da parte o lo rende nullo o vi aggiunge qualcosa quando è stato redatto e firmato, ratificato, confermato. Ora, le promesse, patti, accordi, sono state decretate e fatte ad Abramo e al suo seme, la sua discendenza, il suo erede. Egli, cioè Dio, non dice ai semi, discendenti, eredi, come se si riferisse a molte persone, ma è al tuo seme, il tuo discendente, il tuo erede, riferendosi ovviamente a un solo individuo che è niente meno che Cristo, il Messia. Vedi Genesi 13 verso 15 e Genesi 17 verso 8.